Benedetto Di Blasi, fundraiser di Fondazione Milan, qui insieme agli amici di Alice for Children. Contentissimo di essere qua nei pressi di Dandora, dietro di me come vedete si intuisce anche la discarica. Però questo è un campo, un campo da calcio, dove la speranza di tante ragazze è messa veramente, per essere ripetitivo, però in campo. Stanno giocando adesso la finale del torneo che è stato organizzato a modo di inaugurazione del progetto, comunque di formale inaugurazione del progetto. Per noi è molto importante vedere che le ragazze abbiano una speranza nel poter praticare il calcio in un contesto anche così difficile. Ma questo è il risultato chiaramente portato a casa dai nostri donatori, io penso a Puma, penso appunto ai nostri tifosi che hanno creduto in questo progetto, agli amici di Alice for Children che hanno voluto realizzare questo progetto insieme a noi. Ed è bello essere qua insieme a voi, potervi mostrare cosa sta succedendo nel progetto, perché questa è un inizio, e del progetto di Sport for Change from Milan to the World, che come vedete da Milano arriva fino a Nairobi. Due squadre in campo stanno lottando tra di loro, sono parte del progetto dove tantissime ragazze hanno l'opportunità di fare calcio, è ad un livello sicuramente più alto che chiaramente al semplice gioco di strada. Si cerca chiaramente di migliorare la loro tecnica e di migliorare il loro approccio al calcio. Per noi è importante aver coinvolto, grazie a Alice for Children, tantissime delle scuole qui della Baraccopoli di Tandora e Corogoccio, che possono dare il loro apporto e possono provare l'esperienza del calcio anche tra le ragazze. Lo sport, come vedete, è una grande occasione di riscatto sociale, è l'occasione anche di poter cambiare la propria vita, di poter migliorare l'approccio alla vita. Si imparano le regole, si sta insieme a nuovi compagni di squadra, chiaramente ci si batte insieme per raggiungere un obiettivo che può essere il miglioramento, un titolo, può essere tutto quello di cui fa parte, che ha dentro di sé il calcio, quindi la competitività ma al tempo stesso la lealtà. Due aspetti veramente importanti che noi come Fondazione Milan vogliamo portare avanti attraverso Sport for Change from Milan to the World.